Giorno 367 della crisi idrica a Roma Non è il momento del panico e dell'intolleranza Servono prudenza, civiltà e umiltà Disinischiamo le polemiche Io al bolletto l'ho pagata tutti! Non viene utilizzata nemmeno una goccia della rete pubblica Servono persone come lei per trasmettere fiducia La gente è pazzia Bravo brother! Dai, su! Che cazzo! Mora di papà, c'hai 16 anni Devi ridere e innamorarti Mi piace uno Eh, beh, non so bene Eh, lo so insoluto Quando è che abbiamo smesso di essere felici io e te? Non sono mai stata felice Prontissima Allora? Che futuro ci aspetta? No Che? Che futuro ci aspetta? Che futuro ci? Che futura èisches bene